Sciogliersi per avere, assieme a tanti altri, un partito liberal democratico e riformatore che fra tre anni sia nelle condizioni di presentarsi agli italiani con un'idea di società chiara basata su merito, competenze, meritocrazia, pari opportunità, atlantismo senza se e senza ma e tante altre cose che sia distante da quello che adesso è questa sinistra e questa destra in modo legittimo, ma sono offerte politiche che non rappresentano tutta l'Italia e gli italiani stanno sempre votando la cosa meno lontana da loro, forse è il momento che votino la cosa più vicina a loro.